Ti capita mai di percepire un senso di vuoto, di sentirti intrappolato in una routine che sembra non portare da nessuna parte? Come se fossi incastrato in un lupo senza uno scopo chiaro? Devi sapere che questa sensazione di smarrimento comune è molto più frequente di quanto pensi. Spesso ci si ritrova immersi in un vortice di attività quotidiane, senza davvero interrogarsi sulla direzione che stiamo prendendo. Immagina la vita come un treno, in costante corsa, veloce, inarrestabile. Trasportati da questa fretta comune ci ritroviamo senza accorgercene a vagare senza una meta chiara, sperando che la giusta direzione si manifesti da sola. Di conseguenza la monotonia e la mancanza di soddisfazione diventano la norma e il senso di vuoto si insinua nelle nostre giornate. Ti faccio una domanda, quante volte ti ritrovi a soddisfare le aspettative degli altri ma mai le tue? Ecco, facendo così senza nemmeno accorgertene ti ritrovi in trappola e come ben sai questo non è il modo migliore per vivere. Ma come si esce da questa situazione? Come si fa a smettere di vagare senza una meta e a iniziare a vivere per davvero, abbandonando quel senso di vuoto a cui la routine ci abitua? Uno studio condotto da Martin Seligman sulla psicologia positiva ci invita a vivere una vita piena, significativa e più felice. Lavorare su se stessi puntando a raggiungere degli obiettivi più alti è una delle pratiche raccomandate dalla psicologia positiva per vivere una vita molto più soddisfacente in equilibrio e più felice e per aumentare il nostro benessere e la nostra serenità. Anche Seneca il filosofo diceva non esiste evento favorevole al marinaio che non sa dove andare. Dunque, da un lato bisogna sapersi porre degli obiettivi, ma dall'altro bisogna essere in grado di definire un piano di azione concreto che ci consenta di raggiungerli. Questo compito non è per nulla facile, lo so. Trovare il proprio perché, il proprio scopo può essere a volte una grande sfida, soprattutto se non si hanno i giusti strumenti a disposizione. Ecco, il percorso che ti sto per presentare nasce per rispondere a questa grande difficoltà. Destinazione Successo è un progetto nato su richiesta della mia grande community per aiutarti ad avere degli strumenti pratici, tangibili e soprattutto per aiutarti a comprendere quali sono i tuoi valori, come definire i tuoi obiettivi e come poter riequilibrare tutte le tue aree di vita. È il risultato di anni di impegni, di studi nel campo della psicologia, nel campo della crescita personale. Ha tuo supporto per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. All'interno di questo percorso troverai strategie pratiche tratte dalla psicologia che ti aiuteranno a dire addio alla mancanza di una chiara direzione, superare la procrastinazione, sviluppare consapevolezza, migliorare la fiducia in te stesso, affrontare la paura del fallimento, acquisire disciplina e trovare equilibrio nella tua vita. Inoltre, la sua praticità e concretezza ti permetterà di acquisire consapevolezza, costruire una mappa chiara per cambiare, definire chiaramente gli obiettivi per trasformarli in realtà. In questo momento hai due strade. Puoi continuare a vivere la tua vita come hai sempre fatto, immerso probabilmente in un ciclo senza fine di attività quotidiane, sperando che la direzione giusta si manifesti da sola. Una vita in cui la monotonia e la mancanza di soddisfazione potrebbero essere la norma, oppure puoi scegliere di cambiare. Puoi decidere di intraprendere un percorso diverso, un percorso che ti aiuti chiaramente a definire i tuoi obiettivi e a trasformarli in realtà concrete e tangibili. Un percorso che ti aiuta a gestire la procrastinazione, a sviluppare la tua consapevolezza partendo dalla tua visione, a migliorare la fiducia in te, ad affrontare la paura del fallimento e ad acquisire più disciplina. Puoi decidere di costruire una mappa chiara per il tuo cambiamento e sviluppare una visione chiara degli obiettivi che desideri raggiungere. Aspettare non cambia le cose, è il coraggio di agire che fa davvero la differenza. Non lasciare che la tua vita continui senza una chiara destinazione. Ti ricordo che le porte di destinazione successo saranno aperte solo fino al 24 novembre con la promozione speciale. Quindi non perdere altro tempo, clicca sul link qui sotto e accedi al corso completo, ai materiali, gli esercizi e soprattutto anche al bonus speciale riservato per te. Un webinar in diretta su Zoom sulla gestione efficace del tempo e l'organizzazione personale. Iniziamo questo processo di cambiamento insieme. Ti aspetto a bordo del corso.